Sono Silvana Gaetani, sono un professore associato presso l'Università La Sapienza di Roma. Mi occupo di neuropsicofarmacologia. Sono Anna Maria Giudetti, sono professore aggregato di biochimica presso l'Università del Salento. Mi occupo di studiare il metabolismo, soprattutto quello lipidico, in cellule in differenti condizioni fisiologiche e patologiche. Stasera vi parlerò dell'effetto di alcuni microrganismi presenti nel nostro intestino sulla composizione corporea, sull'appetito e sull'eventuale comparsa anche di malattie neurodegenerative. Stasera vi parlerò di come il comportamento alimentare è modulato sulla base della neurochimica del cervello. Il caffè generalmente lo prendo decaffeinato e con un mezzo cucchiaino di zucchero di canna integrale. Prendo il caffè di solito lungo con mezzo cucchiaino di zucchero. Siamo guidati dalla fame o siamo guidati dal piacere? Grazie. Grazie.